ciao a tutti amici del cancro benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami cancro tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2022 abbiamo la carta del matto amici del cancro il matto è sempre una carta che parla di nuovi inizi di nuove avventure ma è anche una carta che parla di un sentimento genuino di fiducia di amicizia andiamo a vedere con i tarocchi cosa vi vogliono dire nello specifico io intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo quindi sono generali potrebbe non risuonare tutto voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo se non dovesse risuonare niente o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente il segno lunare o venere per chi volesse contattarmi poi trova il indirizzo email qua sotto nella descrizione del video allora cominciamo con un asso di coppia un principe di bastoni e una principessa di spa cavaliere di bastoni e fante di spade quindi visto che dicevamo il matto parla di nuovi inizi di nuove avventure qui si parte proprio con un asso di coppia e quindi qualche tipo di nuovo inizio c'è stato un nuovo tipo di emozione passione relazione potrebbe anche essere un incontro per qualcuno potrebbe anche essere una nascita magari una nascita di un progetto o perché no di un bambino o appunto di una relazione perché qui comunque vedo un bellissimo cavaliere di bastoni quindi può far riferimento alla vostra persona di interesse magari per qualcuno fa riferimento a se stessi nel senso a questo rinnovato entusiasmo di cui ci parla anche la carta del matto abbiamo poi un fante di spade qui sento che c'è qualche tipo di ideologia in qualche modo qualche tipo di come vi posso dire sì il fante di spade è sempre quell'energia che pensa tanto ha sempre mille idee geniali però poi alla fine ora di metterle in pratica non sa bene come fare diciamo che è una carta che vi dice che l'energia in questo momento è nei chakra alti ok andiamo a vedere come andiamo avanti abbiamo un sette di denari sette di denari qui fa riferimento a una sorta di impazienza 9 di denari re di spade al contrario probabilmente qui qualcuno ha voglia di accelerare un po i tempi ma ripeto c'è sempre questa energia del fante di spade tante idee ma poi alla fine a livello pratico a livello concreto non si sa bene come far procedere le cose direi abbiamo poi il nome di pentacoli che è una carta di grande appagamento una carta di amor proprio è una carta di abbondanza quindi se per voi in qualche modo ci fosse una sorta di come vi posso dire desiderio di indipende di indipendenza con il 9 di denari vediamo che questa indipendenza arriva il re di spade al contrario potrebbe rappresentare una sorta di confusione mentale che potrebbe a 10 di coppia che potrebbe arrivare che interessante perché qui avete una carta di indipendenza e qui avete una carta di unione sento che con questo re di spade al contrario molte persone potrebbero anche rendersi a quello che è l'amore infatti poi qui il risultato finale è questo 10 di coppe è una carta di compimento una carta di forte appagamento emotivo una carta di completamento ricordiamoci che comunque è un 10 e che quindi parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un altro ciclo sento che per qualcuno qua si tratta della ricerca di un bambino però le cose vanno prese con un po più di pazienza insomma andiamo a vedere carta per carta fatemi vedere l'asso di coppe per piacere grazie abbiamo un papa al contrario è un 10 di pentacoli al contrario qui probabilmente ha iniziato qualche tipo di relazione qualche tipo di legame di conoscenza potrebbe anche essere che però diciamo così è un po insordina è un po insordina nel senso che non è probabilmente ancora una relazione che esponete alla luce del giorno e motivo per cui potrebbe essere che non si senta poi così tanto completa però c'è questo inizio positivo con l'asso di coppa andiamo a vedere il principe di bastoni abbiamo un 3 di denari la carta del matto di nuovo al contrario la torre al contrario in 10 di spade wow qui fa riferimento al fatto io sento che diciamo peccate di poca fiducia la carta del matto vuol dire anche quello dovete lavorare su quello che è la fiducia nella vita qui in effetti e al contrario è come se qui ci fosse stato sì questo nuovo inizio ma il fatto che sia non proprio riconosciuto non proprio una cosa alla luce del sole magari nel senso che durante la conversazione l'altra persona non è così diretta come voi nel dire le cose ok e questo vi lascia qualche dubbio non vi fa fidare tanto di questa persona qui comunque abbiamo la carta della torre al contrario un 10 di spade c'è comunque un ciclo da chiudere una sofferenza un qualche tipo di sì sento che qualche cosa che riguarda che riguarda quello cui siete stati abituati perché comunque quando c'è la carta della torre si parla di un crollo delle certezze qui non sono ancora crollate ma è come se non fossero certe non avete queste come vi dicevo prima come se non avesse fiducia andiamo avanti vediamo la principessa di spade ok abbiamo un 2 di spade e una regina di coppe il 2 di spade mi dice che c'è in qualche modo una sorta di cecità vedete che la figura alla benda quindi qualche cosa probabilmente non si vede ma sento che è qualche cosa che fa riferimento a quello che voi provate dentro di voi è un po come se il 2 di spade rappresentasse da un lato la mente e dall'altro le emozioni andiamo a vedere sette di denari diamanti gli amanti il diavolo entrambi al contrario vi faccio notare che praticamente sono la stessa carta il disegno è molto simile ok si dice che lucifero sia un angelo caduto ragazzi carta di amor proprio carta di schiavitù carta di dipendenza carta di equilibrio qui rivedo il 2 di spade sinceramente ok la mente e i sentimenti e per quello che avete voglia di indipendenza andiamo a vedere questo nome di denari perché indipendenza arriva infatti c'è la forza si arriva questa forza per fare quel passo in avanti per diciamo di vincolarvi da questo tipo di sensazione da questo tipo di c'è qualche cosa qua che non vi fa fidare di questa proposta o di questo nuovo inizio qui si tratta di capire se non vi fidate perché siete manipolati siete stati manipolati o avete convinzioni limitanti o semplicemente siete avvelenati per storie passate non avete ancora trasmutato magari la rabbia il dolore e quindi proiettate la vostra frustrazione sulla nuova relazione oppure appunto potrebbe essere una questione di amanti al contrario come vi dicevo potrebbe essere una questione emotiva voglio andare a vedere questo re di spade nome di coppe sei di coppe e 8 di bastoni è come se qui ci fosse da prendere posizione prima bisogna prima io sento che dovete fare pulizia qua tra questi due lati della medaglia se vogliamo perché giustamente adesso voi non vi fidate siete tanto presi sia dalla testa che dal turbinio di emozioni e non avete un ordine mentale infatti il re di spade è al contrario però è anche vero che avete una carta di appagamento emotivo quindi molto probabilmente da un punto di vista emotivo potrebbe anche sembrarvi l'anima gemella o potrebbe essere una relazione magari di lunga data quella che state vivendo e qui fondamentalmente c'è da migliorare la comunicazione con questo 8 di bastoni andiamo a vedere il 10 di coppe abbiamo un 5 di bastoni e un re di pentacoli voglio un'altra carta 10 di coppa al contrario fante di coppa al contrario e 2 di coppa al contrario ripeto qui c'è da migliorare la comunicazione perché perché comunque i conflitti che voi avete si possono risolvere fate attenzione a quelli che sono diciamo le lotte di potere perché quando c'è la carta del diavolo si parla di potere mentale in realtà ma qui abbiamo un re che parla di potere materiale quindi certe volte mi verrebbe da dire fate attenzione quando c'è la torre perché è una questione di orgoglio più che tutto e potrebbe anche non essere come vi posso dire la sensazione che avevate all'inizio di non fidarvi e di tutte queste cose qui sento che alla fine del periodo potrebbe proprio dare questa cosa qui quindi il fatto che non ci sia un reale compromesso una reale è un po come sentissi che è solo una cosa di apparenza questo nuovo inizio che come vedevamo non è riconosciuto e in realtà non è concreto non è un qualche cosa che dà una sorta di stabilità come se poi man mano che la lettura si svolge voi non riuscisse a identificare se amore o tossicità se amore o dipendenza con queste due carte così no in perché in effetti avete questa sorta di bivio tra la mente il cuore che crea questa sorta di confusione mentale anche se poi a voi sembra perché così sembra di essere appagati avete un 9 di pentacoli no 9 di pentacoli però a me spiegato da queste due carte è come se dicesse che ok vi da l'impulso per mettere dei paletti per dare un la per prendere in mano le redini della questione e qui si tratta di migliorare la comunicazione perché migliorando la comunicazione migliora anche quello che è la chiarezza mentale ok la stesa secondo me però finisce con una questione di giochi di potere il punto è che se avete 10 di coppe quindi c'è un compimento e c'è un appagamento in un certo senso non mi piace dire l'avrete vinta però riuscirete a creare questo tipo di armonia familiare o armonia della coppia però ripeto sarà come vi dicevo prima mi sembra che sia una questione di facciata perché comunque continuano a esserci dei conflitti e non c'è una reale unione un reale appagamento perché da parte di uno dei due non c'è questo tipo di offerta di collaborazione di passo in avanti nei vostri confronti ok andiamo avanti e vediamo una carta c'è qualche carta per i single poi andremo a vedere qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e poi andremo a vedere qualche carta per le persone che sono in una relazione a distanza in separazione o clandestina amici single 7 di coppe la carta del mondo la regina di denari e un 8 di bastoni al contrario che avevamo già qui di nuovo qui allora il mondo potrebbe per qualcuno parlare di uno spostamento non lo vedo per molti perché nella lettura generale non ho tante carte c'è non ho proprio carte di movimento però comunque si tratta di un cambio di un compimento calcolate che qui si partivano da determinate possibilità che probabilmente hanno cambiato il vostro mondo o il vostro modo di vedere il mondo abbiamo poi anche una regina di pentacoli potrebbe essere la persona che entra ok in effetti qui vedevamo che avevamo il cavaliere di bastoni e guardate per voi sento che si instaura una sorta di comunicazione non quella che vediamo qui probabilmente tutto questo lavoro mentale che dovete fare questo lavoro di pulizia il lavoro dove l'altra persona non c'entra molto sento che non è una persona nuova se non l'avete già conosciuta ma sento che sì perché qui qualche cosa è già iniziato comunque potrebbe essere che andrete a conoscerla in questo periodo e per adesso si instaura quello che è una comunicazione che apparentemente potrebbe sembrare bella sento che comunque per molte persone sarete voi a prendere il coraggio di avvicinarsi e di avvicinarvi a questa persona però fate attenzione prima guardate lo vedo un po come lo yin e lo yang perché comunque in tutte le persone c'è la zona di luce e la zona d'ombra secondo me qui avete prima bisogno di prendervi un tempo di riequilibrare quelle che sono le vostre energie interne prima di riuscire a trovare il coraggio di affrontare questa nuova realtà andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile la luna tre di bastoni e due di bastoni con la luna qui si potrebbe parlare di qualche sogno che probabilmente si sta realizzando il tra di bastoni parla di qualche tipo di progetto qualche tipo di mi parlano di moneta di scambio quindi probabilmente si tratta del io faccio questo per te e tu fai questo per me e si va verso un nuovo futuro verso una prospettiva migliore e qui lo vediamo fate attenzione perché c'è la luna quindi per qualcuno si tratta di proiezioni proiezioni per quello che riguarda come dovrebbero andare le cose chi dovrebbe fare cosa prospettive di guadagno o cose di questo genere però ecco probabilmente non ci sarà quell'equilibrio come vi dicevo prima che voi vi vi aspettate preparatevi per questo non vuol dire che non ci sarà mai l'equilibrio ma in questo periodo che veramente breve sono 15 20 giorni sento che si farà un po fatica a trovare l'equilibrio ok andiamo a vedere per le persone che sono in separazione in una relazione a distanza clandestina diavolo sole entrambe al contrario e cavaliere di spade ecco diciamo che forse alla vostra lettura come vi posso dire è un po più condizionata da questo disequilibrio perché qui abbiamo il diavolo al contrario e parla di manipolazione ragazzi qui c'è qualcuno che fondamentalmente sta sfruttando la situazione è brutto dire sfruttare non mi piace però è per rendere l'idea no perché diavolo parla di manipolazione quando il sole al contrario soprattutto quando è vicino al diavolo io lo sento come se parlassi di una profonda ferita interiore e poi il cavaliere di spade e quella persona che va e viene che soprattutto visto che ci sono queste due carte c'è la carta del diavolo sento che una persona un po arrogante un po egoista diciamo che il vostro istinto a non fidarvi è giusto a non fidarvi di quello che vi dice di quello che può sembrare un nuovo inizio ecco se vi fidate di quello che vi dice io vi dico aspettate un attimo prima di fidarvi ciecamente di quello che vi dicono ok allora andiamo a vedere con gli angeli del cuore ultimo consiglio lascia andare il tuo ex è tempo di ripulire la tua energia interessante interessante e poi abbiamo fai uno sforzo per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati ragazzi qui con questo disequilibrio che vedevamo qui potrei vedere questo cioè la zona di luce e la zona d'ombra il lascia andare il tuo ex perché in realtà qui non vedo proprio una persona che possa rappresentare un ex però sì condizionamenti mentali che arrivano dalla relazione che avete avuto primo e poi qui la carta e fai uno sforzo e qui io sento che avete bisogno di migliorare la comunicazione perché comunque ci sono ancora dei batti vecchi e delle lotte di potere che non sono sane c'è da mettere equilibrio fondamentalmente sento che in questo senso la carta del matto qua vi dice cioè fa riferimento a quello che l'ingenuità non siate troppo ingenui ok qui ce l'avevate al contrario cercate di aprire un attimino gli occhi perché in questo momento siete tanto condizionati quindi non riuscite essere obiettivi bene cari amici del cancro questo è quello che ho per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao